...un bambino tutti i giorni, lo sai? Ogni giorno un bimbo morto, ridia, ogni giorno. Ehi, che giorno è? Oggi è il giorno del bimbo morto. No, aspetta, ogni giorno c'è un bimbo morto, sai? Perché mi dici questa cosa? Scott è alle prese con i giamelli Alfa. Non sapevi dei giamelli? Sono Alfa. Ethan e Aiden. Ah, sì. Sì, forse lo sapevo. Bene, allora, ecco che pensavo. Forse gli omicidi avvengono tre alla volta. Gli antichi erano fissati con il numero tre, prima ci sono stati tre vergini, e adesso, non so, forse tre persone che hanno dei cagnolini. Io ho un cagnolino. Non mi sbarazzerà del cagnolino. Però prendilo in considerazione. No, e comunque non puoi fare uno schema se ti mancano tutti i dati, quindi smettila. Ma cosa? Va bene, quindi dovrei solo aspettare che muoia qualcun altro, devo restare fermo a guardarli morire e aspettare solamente che periscano davanti a me. Periscano? Sai che cosa intendo? Una morte orrenda, strangolati, con la testa sfondata e la gola tagliata. Forse non è compito tuo. Hai visto? Sono stati strangolati con una garrota. È una cosa che fanno gli umani, perciò... Potresti lasciare indagare qualcuno che se ne intende di umani. Stai pensando a qualcuno tipo mio padre? No, intendo proprio lui. È lo sceriffo. E ho sceriffo.